Perigeo Conosci Perigeo Tengo tu e sono in mezzo Tu sei grande colegio di arti mestieri Aria, Demetrius Stratus e il jazz, il mio preferito periodo del jazz in Italia è il 60's molto meno c'è una persona che non voglio dire il nome questa persona era un bresiliano booker che usava a bookare un artista per Umbria jazz questa persona magari non piace la mia musica e piace molte cose che sono e il Mota e noi siamo insieme a tutoji.com